ci colleghiamo questa mattina con la città di bologna ci ha appena confessato che ha due gatti in casa che gli stanno facendo le fusa siamo collegati con giovanni melli presidente di civibo che ringraziamo e salutiamo per essere con noi questa mattina buongiorno ben trovato un buongiorno a tutte a tutti parliamo delle cucine popolari potremmo dire tra pasti caldi e socialità allora giovanni se presidente appunto di civibo che l'associazione che porta avanti le cucine popolari raccontaci com'è nata quest'idea e che cosa fanno le cucine popolari ecco questa idea è nata da un gruppo di 12 amici amiche che provenivano da diverse esperienze nel sociale che si sono interrogati di che cosa ci poteva essere bisogno come rete di servizi prodotti dalla società civile dal volontariato analizzando la situazione abbiamo visto che c'è c'era un'area sociale a cavallo della linea di povertà che noi abbiamo definito le persone fragili ed invisibili che erano prive totalmente di attenzione di servizi perché per essere diciamo presi in carico dalle realtà pubbliche occorreva stare dentro a un ise economico una linea di ise economico che è piuttosto altina basta avere ereditato qualche come dico io qualche sasso a matera che si alza il livello dell'ise e non ti prendono in carico più c'è della delle persone che lentamente sprofondavano anziani soli coppie separate persone che hanno incrociato problemi di salute eccetera che si trovavano in grande difficoltà abbiamo detto vabbè proviamo a collocare questa nostra esperienza capacità di produrre pasti di fare da mangiare su questa su questa su quest'area avendo ben presente sia la povertà assoluta ma soprattutto la povertà relazionale le persone sole che lentamente stavano sprofondando e abbiamo incominciato in questo modo la diciamo della formazione dell'associazione avvenuta nell'ottobre del 2014 ci siamo guardati come trovare il posto abbiamo trovato un posto però occorreva avere la certezza economica per poter poi dire partiamo e reggere poi la situazione abbiamo cominciato a raccogliere fondi poi abbiamo incrociato un'idea di un nostro diciamo co fondatore che poi è diventato il punto di riferimento mediatico dell'associazione che è roberto morgantini che si è inventato il suo matrimonio dopo 38 anni di convivenza invitando tutti amici e persone che lo conoscevano perché è una persona conosciuta per tutte le attività che aveva fatto precedentemente questo ci ha consentito di raccogliere di raccogliere 50 mila euro in un giorno solo in questo evento e questo ci ha dato la garanzia di poter partire io definisco questa cosa noi eravamo un aliante su una pista in attesa di essere lanciato in aria l'abbiamo trovato con questa occasione e siamo ancora lì che vogliamo in alto abbiamo aperto la prima cucina nel luglio del 2015 e poi nel 2016 ne abbiamo aperte altre due e poi l'ultima la più l'ultima diciamo l'abbiamo aperta nel 2022 il nostro obiettivo è di averne una almeno in ogni quartiere a bologna i quartieri sono 6 ce ne mancano ancora due stiamo provando a vedere in che modo in che modo fare in che modo siamo arrivati che siamo arrivati a produrre giornalmente circa 600 pasti distribuiti nelle varie nelle varie cucine i volontari attivi se le può interessare i volontari attivi sono attorno ai 290 i soci più in generale sono 550 viviamo in questo modo ecco raccogliamo esatto quindi raccogliete fondi e grazie appunto anche alla presenza dei volontari si riesce a dare un pasto caldo al giorno e quello che mi ha colpito è un allarme che lei ha lanciato questa notizia rimbalzata anche sul sito di redattore sociale anche nella benestante bologna ci sono famiglie che devono scegliere se mangiare comprare libri di scuola ai propri figli e o vestirsi mentre lasciamo perdere le visite mediche quelle sono la prima cosa a cui si rinuncia la salute è la prima cosa a cui si rinuncia ed è un allarme ecco importante anche perché lei ha detto che il passaggio dalla fragilità alla povertà avviene in un attimo per un non nulla quindi parliamo anche di famiglie con all'interno due lavoratori due stipendi che per un non nulla come ha detto bene lei si ritrovano in una situazione di povertà sì c'è da dire questo che il passaggio tra la fragilità e la povertà avviene molto più velocemente di prima mentre prima ci potevano essere dei segnali si potevano prendere dei correttivi le politiche socio sociali gli interventi gli aiuti eccetera adesso veramente basta basta poco e questo noi lo notiamo proprio sul campo vedendo le persone che vengono a prendere il pasto o a mangiare presso le nostre le nostre messe parlando con loro perché noi vuol dire abbiamo siamo dei sensori di questa di questa sensazione molte volte le avvertiamo anche un po prima che avvengano che avvengano realmente e questo è un fenomeno che è in aumento le faccio presente un dato a bologna si percepiva il reddito di cittadinanza erano circa 23 mila persone oggi essendo stato cambiato questo strumento modificato introducendo l'assegno di inclusione purtroppo le persone che sono passate dal regno di cittadinanza a questo nuovo strumento sono solo 6 mila qualche cosa e non si può pensare che le altre erano della persone che non ne avevano diritto o che erano in una situazione anomala perché purtroppo non è vero e questo ha fatto sì che la diciamo le famiglie che prima godevano anche di questo supporto economico non se lo trovano tra le mani e allora tra lavoro povero ma figli che voglio dire hanno esigenze sia per la scuola sia per tante altre cose creano affanno e le famiglie hanno già in testa una loro graduatoria di priorità e purtroppo ci sono delle cose che si vanno sempre agli ultimi posti è un po' un cane che si si morde la coda è un'altra un altro aspetto un altro cruccio che voi avete in qualche modo lei ha manifestato è il fatto che c'è una categoria precisa che vi ha abbandonato nel senso che all'inizio le persone sole venivano anche a cercarvi per mangiare in compagnia quindi è un pasto caldo e socialità però poi la pandemia purtroppo ha cambiato un po' le cose perché le persone in qualche modo non si fidano più e fanno fatica a pranzare a mangiare con gli altri sì questo è una diciamo è un cruccio che che ci portiamo dietro come esito della pandemia la pandemia ci ha veramente cambiato le carte in tavola noi avevamo trovato un ottimo equilibrio avevamo parecchie persone diciamo di del quartiere delle varie che ci contattavano per il solo motivo di poter mangiare in compagnia e questo era per noi una cosa positiva era uno dei punti che avevamo messo negli obiettivi della dell'associazione con la pandemia e con l'introduzione dell'asporto ha scombinato un po tutte queste cose e notiamo che c'è un arretramento culturale di approccio le persone effettivamente vengono a prendere il pasto e poi vanno via è vero che aumentando le famiglie non possono venire 4 5 6 tutti assieme a mangiare contemporaneamente allora vengono a prendere il pasto che poi lo consumano a casa e questo è un fatto inevitabile ma mentre prima noi avevamo un equilibrio tra povertà e diciamo povertà relazionale adesso siamo schiacciati diciamo sulle esigenze più materiali più di povertà diciamo in generale e di povertà alimentare che questo è un altro segnale che notiamo noi vediamo che anche rispetto al ceto medio o al ceto medio più diciamo più basso ci sono dei dei cambiamenti e di priorità e il cibo non è la priorità più assoluta per cui si sta scivolando pian piano verso noi la definiamo povertà alimentare la gente spent cerca di spendere meno per mangiare e più su altre cose magari che noi possiamo ritenere più diciamo meno di meno importanti adesso esempio che spette volte faccio è che c'è una persona cerca di comprare un cellulare ci guarda controlla si fa spiegare poi alla fine la gente compra magari indebitandosi un cellulare diciamo che costa abbastanza notiamo invece di converso che per il mangiare le persone cercano il minor prezzo non la qualità ecco mangiando mangiando appunto poi con meno qualità quindi come dire si privilegia e la salute è la salute di risente certo allora giovanni melli le ha detto che la sua il suo augurio è che ci possa essere una cucina popolare in ogni quartiere di bologna noi speriamo di risentirci quando sarà inaugurata una nuova cucina in un quartiere di bologna quindi speriamo il prima possibile rimarremo comunque a seguirvi grazie ai vostri social le notizie che arriveranno arriveranno e di cui comunque daremo poi conto ai nostri telespettatori la ringraziamo di cuore speriamo di sentirci presto grazie giovanni melli presidente di civibo l'associazione che porta avanti cucine popolari a bologna grazie e buon lavoro grazie a voi e buon lavoro anche a voi grazie e allora è arrivato il momento di fermarci ancora qualche istante linea la regia e poi lo spazio dedicato alle ultime notizie